Gentili telespettatori, buona giornata. La profezia di Senaldi sullo scisma del PD. Quando avverrà è molto probabile che ci sia una divisione, che nascano due partiti. Certo questo porterebbe alla fine dei sogni di gloria di quest'area politica di poter competere con Giorgia Meloni e con il centrodestra. Però la situazione è insostenibile. Con la Schlein a capo del PD che non esiste come politico è un bel problema. Nessuno avrebbe immaginato che sarebbe stata peggio di Letta e Zingaretti messi insieme. Così i problemi nel PD diventano sempre più grandi. Bonaccini ieri ha riunito la sua corrente perché all'interno del PD ci sono diversi PD. Poi il declassamento di Piero De Luca solo perché il padre è contro la Schlein. Guardate un po' la coincidenza strana. Il figlio viene demansionato, declassamento, da vice capogruppo viene sostituito. Eh sì, nella corrente di Bonaccini dicono è un processo al cognome secondo alcuni dem. Sembrerebbe molto plausibile. Quindi oltre a non essere un politico questa Schlein è pure vendicativa politicamente. Cioè caccia il figlio di quell'altro con cui ha problemi. E questo vi dimostra che questa signora di democratico ha molto poco. Beh, lo ha dimostrato l'altro giorno dicendo che vabbè hanno impedito di parlare al ministro, eh dai su, il governo è contro il dissenso. Ecco, come ha detto Lameloni, un politico che non riesce a capire la differenza tra dissenso e censura, Lameloni dice abbiamo un problema in Italia. Se il capo del secondo partito confonde dissenso con censura, ecco, quindi altro che autoritari nel centrodestra, qui siamo di fronte a una guida di un partito democratico che non è per nulla democratica. Quindi, praticamente appoggiare chi vieta agli altri di parlare, cacciare Piero De Luca perché figlio di quell'altro che non va d'accordo con lei, capite che c'è molto poco di democratico. Così, nel PD, quest'ultima della Schlein, perché solo l'ultima, non è piaciuta a nessuno. Un processo al cognome. Il riferimento è al padre di Piero, Vincenzo De Luca, governatore della Campania, e al terzo mandato alle regionali, sui cui la segretaria PD ha già fatto intendere di non essere d'accordo. Ad alimentare la polemica è stato il deputato Dem ed ex ministro della difesa, Lorenzo Guerini, che ha rimarcato il gesto di Schlein definendolo uno scalpo politico. Proprio i problemi all'interno del PD sono al centro di diverse trasmissioni. Ad esempio quella di Mirto e Merlino sulla 7, che si chiama la trasmissione L'aria che tira. Proprio di oggi, giovedì 8 giugno. Il codirettore di Libero, Senaldi, dice la sua. Dice, secondo me Schlein, come cavolo si chiama, ha fatto bene a liberarsi di De Luca. È giusto che lei scelga i suoi dirigenti fra gli uomini di fiducia. E poi al momento è chiaro che ci sono due PD. Quello di Elly, Schlein, e quello dei vari Amendola, Guerini, Roncone. Ecco, Senaldi dice, è questione di tempo. I due PD andranno a dividersi come naturale e chiaro agli elettori. Solo il futuro potrà dirci se la supposizione di Senaldi poi sarà trasformata in realtà. Nel PD si vive un momento di poca serenità e lo scisma potrebbe anche rivelarsi un'ipotesi meno fantasiosa di quanto si possa pensare. Uno scisma vuol dire una scissione, come quella fatta da Calenda, per parlarci chiaro. Naturalmente lo scissionista o gli scissionisti dovrebbero chiamarsi in un altro modo. Non PD2, non PD3, ma dovrebbero fare quello che ha fatto Renzi e Calenda. Perché Renzi e Calenda hanno fatto degli altri PD. Ecco, qui i rivoltosi dovrebbero creare un altro PD con un altro nome. E le scissioni in Italia non vanno mai bene. Perché non mi dite che a Renzi e Calenda è andata così bene. Pensavano di fare chissà quali numeri. In realtà non è andata così. Quindi alla fine cosa potrebbe succedere? Fanno una scissione, viene fuori un altro partito da 2-3% e il PD rimane sempre lì. Con più o meno la stessa cifra. Perché l'elettore dice a me non piace la Schlein, è inconsistente, inesistente, bla bla bla. Però alla fine quella è la casa di quelli che votano a sinistra. La casa principale, quella più grossa. Pertanto, capitemi che la gente continuerebbe a votare per il PD ufficiale e non andrebbe a votare per i partitini scissionisti. Quindi, naturalmente, poi ci sono poi problemi elettorali, quando ci saranno ancora le elezioni, le epurazioni, cacciano questi, cacciano quelli e fanno poi eleggere solo quelli vicini a questi o a quegli altri. Ecco, diciamo che il PD, per come è strutturato, con un segretario che si elegge ogni 4 anni, sarebbe una struttura diversa dagli altri partiti, dove non c'è un padrone del partito, ma cambia. E proprio questo tentativo di essere più democratici dei partiti padronali che ci sono in Italia è stato un autogol, perché è diventato una sorta di gruppo pieno di piccoli partiti che si fanno la lotta per andare al potere. Quindi, se paragoniamo il PD con i partiti di centrodestra che sono padronali, cioè il fondatore, è meglio un partito di centrodestra perché la linea è quella, è quella del politico. Tu sai che stai votando la linea del politico, anche se poi magari non mantieni le promesse elettorali, però dall'altra parte tu stai votando un partito che è diviso in tanti partitini e vince il partitino che ha più consenso in quel momento, che riesce a passare davanti agli altri. Ecco, insomma. Quindi meglio un partito di centrodestra che un partito come il PD che non è né carne né pesce, che non ha una linea politica perché è formato da tutta gente che sta solo sgomitando per comandare. Grazie a tutti per avermi ascoltato e buon proseguimento di giornata.